La CNA di Siracusa interviene sulla questione riguardante al settore acconciatura ed estetica dopo le misure restrittive applicate con l'ultimo DPCM del 26 aprile, che ha previsto l'ulteriore sospensione dei settori di acconciatura ed estetica nell'intero territorio nazionale, un segmento che nella provincia di Siracusa conta oltre mille imprese con circa 3.000 dipendenti. Il protrarsi del lockdown rappresenta un durissimo colpo per il comparto, con il rischio reale di una perdita di oltre il 50% delle imprese a seguito dello stop prolungato. Questa condizione sta alimentando nel territorio il proliferare di un fenomeno pericolosissimo denunciato dalla CNA più volte e rappresentato dall'esercizio abusivo della professione. Si parla di migliaia di operatori non regolari, senza alcuna posizione IVA né previdenziale, che si regolano presso le abitazioni di persona e senza i necessari presidi di sicurezza. Un fenomeno che rappresenta un'autentica bomba epidemiologica, oltre ad essere intollerabile perché opera regolarmente nel rispetto di tutte le norme vigenti. Questo fenomeno va affrontato con estremo vigore, dice la CNA di Siracusa, perché rappresenta un fortissimo rischio per le nostre comunità, per i nostri cittadini, svilendo il lavoro regolare e professionale di tantissimi imprenditori che stanno già investendo, non poche risorse per garantire il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza e la massima salubrità dei locali per collaboratori e clienti. A questo proposito la CNA rilancia il progetto Imprese Vere, dal quale sono scaturiti specifici controlli d'intesa, con alcune amministrazioni comunali delle collaborazioni finalizzate alla segnalazione degli abusivi proprio ai servizi di Polizia Municipale dei Comuni, con il duplice intento di estendere la sottoscrizione dei protocolli ai comuni che ad oggi non lo hanno ancora fatto, e continuare la nostra rigorosa azione di lotta contro l'abusivismo. Grazie a tutti!